L'architetto ha vinto questo concorso, l'architetto Eisman è un concorso internazionale di inviti, quando è venuto a conoscenza di aver vinto questo concorso praticamente si è subito azionato per capire come entrare a conoscenza del luogo, ha coinvolto la cittadinanza con diversi filmati anche dei movi, per capire come l'architettura si integrasse e dialogasse con la città e con l'intero territorio della Spagna. È stato un rapporto stretto e di continuo dialogo tra committente e progettista in questo senso. È un progetto che è stato studiato estremamente nel dettaglio, che si integra particolarmente con il territorio, un territorio complesso in cui comunque il progetto sembra diventare proprio una parte integrante del territorio in cui è inserito. È studiato anche dal punto di vista formale, morfologico e storico sulla pianta della città e quindi sul progetto si riporcuotano le linee e quali che ne sono i tratti essenziali. Grazie. Grazie.